Il Bari deve rinascere, rigenerando la sua struttura e la sua immagine, ed in società sono al lavoro su questo doppio fronte. Il direttore generale Claudio Garzelli ha prontato un piano di contenimento dei costi per garantire al Bari una vita societaria normale. Il percorso è ancora agli inizi, ma se condotto alla meta potrebbe essere un punto di partenza decisivo per scrollarsi di dosso tutte le componenti negative che hanno finora immesso in difficoltà i biancorossi in un'annata mai così travagliata nella storia dei galletti. Il direttore generale del Bari, punto su punto, ha spiegato come si sta intervenendo un po' su tutti i fronti, dai rapporti con l'Agenzia delle Entrate, una ragionevole rateizzazione potrebbe aiutare molto, a quello con la giustizia sportiva per il caso calcio scommesse, in cui si ritrova suo malgrado coinvolta. Dalla valorizzazione del parco tecnico dei giovani al convincimento dei tesserati ed un contenimento degli ingaggi. Intanto, entro il 30 giugno bisognerà iscrivere il Bari al campionato e se, come si auspica, ci si arriverà con gli stipendi di aprile pagati entro il 24 giugno e con la citata rateizzazione dei 5 milioni e mezzo di euro di debito IRPEF, si potrebbe essere ottimisti. Poi c'è il programma per la squadra. Oggi sapremo se Vincenzo Torrente accetterà quello prospettato lì dallo stesso Garzelli e dal DS Guido Angelozzi. Torrente resterebbe volentieri a Bari e anche se con un organico da linea verde e con tanti sacrifici alle liste, a meno di clamorose sorprese dovrebbe dire di sì al Bari. Aspettiamo e vediamo.